Quando si fa una riforma bisogna pensare anche alle conseguenze della riforma, era vero che bisognava riformare la Fornero ma bisognava anche vedere di impedire che il cambiamento provocasse conseguenze negative. Ma se l'Europa bocciasse questa manovra? L'Italia è ancora in tempo per correggerlo, io mi auguro che questo non accada, il rischio è forte l'Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro, lo faccia rapidamente nell'interesse degli italiani perché questa manovra non va nella direzione dell'interesse del Paese e dell'Italia, è una manovra che non crea lavoro oggi il primo problema per l'Italia si chiama lavoro e questa manovra è assistenzialismo ma non lavoro. Grazie a tutti, arrivederci, buon lavoro.